Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa, tantissime novità in casa Blackmagic che a NAB 2023 ha presentato DaVinci Resolve 18.5. Le migliorie sono incredibili dal punto di vista del motore neurale e dell'intelligenza artificiale, ma come vedete dal pannellino alla mia sinistra c'è già 18.5 in versione beta e quindi possiamo anche volendo già provarlo, ma andiamo a vedere sempre perché le migliorie riguardano tutte le pagine del programma. DaVinci Resolve nella versione studio su una o più clip ha Transcribe Audio, quindi come vedete è possibile avere l'audio di un'intervista e anche ricercare il singolo termine, verremo portati in quel punto della clip e ovviamente è possibile anche correggere manualmente se dovessero esserci errori. Una funzione incredibile, quindi possiamo creare anche una traccia per i sottotitoli e andare su Timeline Crea Subtitle dall'audio e avremo tutta la trascrizione in automatico del nostro parlato istantaneamente. Sempre nella versione studio possiamo classificare gli effetti audio come parlato, musica e effetti sonori e poterli archiviare automaticamente con Analyze. Come vedete ogni clip verrà inserita nella categoria corretta. È possibile inserire categorie anche manualmente e poi sugli Smart Beam ritrovare queste categorie e sotto categorie. Sempre nella versione studio la nuova funzione Super Scale ha funzioni di nitidezza e riduzione del rumore che permettono di perfezionare l'upscale. Nella Cut Page le novità sono tantissime. È possibile ora sganciare le tracce audio video così da ridimensionare solo una o solo l'altra. Inoltre ora è possibile allargare la traccia audio per poter lavorare più finemente. Un grande cambiamento è anche nei menu. Come vedete in quest'area ora abbiamo Timeline Option, Timeline Action e Edit Action. E poi più sopra possiamo trovare solo video e solo audio come c'è sulla Edit Page. Come vedete anche altre icone sono state spostate qui in basso per liberare spazio nella Timeline. Nella Edit Page la Timeline ha sempre eseguito il Ripple sul taglio ma ora c'è una nuova funzione che permette di poter lasciare anche il buco e quindi non eseguire il Ripple della Timeline. Il Timeline Option menu permette di personalizzare la vista della Timeline come ad esempio Display Name che ci permette di avere sulle clip il nome e altri dati della clip. C'è inoltre Boring Detector che è stato spostato qui. Invece nel Timeline Action menu troviamo tutte le funzioni per aggiungere tracce audio, tracce video e tracce di sottotitoli e creare anche i sottotitoli dal clip come abbiamo visto prima. Sempre nella versione studio abbiamo dei text scene cut e quindi da una scena unica potremo andare a suddividere nelle scene con cui è stata girata e poi abbiamo anche la possibilità di aggiungere i marker e settare il colore direttamente da questo menu. Troviamo anche la funzione Trim Start e Trim End che era già presente nella Edit Page per facilitarci i tagli a inizio e fine del clip. Un'altra funzione rapida è quella di poter risincronizzare audio e video di una clip. Mentre ora premendo l'icona dello Smooth Cut abbiamo possibilità di entrare nel pannello delle dissolvenze e quindi applicare altre transizioni al posto dello Smooth Cut. Nella finestra di Quick Export è ora possibile esportare anche video verticali ad esempio per TikTok. Lo Smart Indicator in Timeline ora è molto più visibile abilitando questa funzione che ci rileva il taglio di dove verrà inserita la transizione. Ora se abbiamo un multicam in flat e applichiamo una color questa verrà applicata a tutte le riprese che sono contenute nella nostra multicam flat. Abbiamo degli shortcut per inserire e rimuovere i keyframe e addirittura per lavorare in play sui volumi. Nella Fusion Page è ora supportato Framework USD, cioè un file 3D aperto che ci permette di collaborare anche con altri creator. Questo permette la modifica di geometria di geometrie, illuminazione, materiale, telecamere e animazioni. Inoltre è presente un tool di USD con dei modificatori. Un nodo Multi Merge permette di controllare diversi livelli e dall'Inspector è possibile accendere e spegnere questi livelli per regolarne la visibilità e addirittura intervenire sui singoli layer per poterli modificare. Si può gestire il Color Management Setting per Fusion e avere un risultato migliore sulla gamma. In Fusion è presente anche un nodo Deep Map con IA nativo. Invece dalla Color Page è possibile configurare un Color Space per progetti di supporti misti. Inoltre è presente direttamente un Composite Mode con il quale, come vedete, possiamo andare a sommare con altri nodi. Inoltre è possibile switchare l'In, Out e la gamma. Sempre dalla Color Page è possibile segnare direttamente le annotazioni sulle clip. Sempre dalla Color, come vedete sul Viewer, apparirà una indicazione di missing LUT, quindi LUT mancanti e quindi anche dalla Galleria avremo questo avviso. Una funzione interessantissima è una Deep Map per le luci, è un effetto Relight con il quale possiamo rimappare le luci della scena ottenendo luci virtuali. Possiamo proprio spostare la fonte luminosa e in questa maniera andare a migliorare la nostra illuminazione o cambiarla. Come vediamo in questo esempio, dove abbiamo anche rilluminato il viso. E la stessa cosa, possiamo anche dare luci direzionali all'intera scena e quindi vedete, correggiamo o cambiamo addirittura la scena o luci spot e possiamo puntare uno spot per evidenziare un'area. Usando Magic Mask o le Windows normali possiamo isolare questo effetto di illuminazione su una sola zona della nostra immagine. Nella Farlight possiamo creare gruppi di modifica, ad esempio gruppi sulle nostre clip delle interviste, e quindi possiamo lavorare ottimizzando i tempi intervenendo su tutti quei gruppi che appunto contengono l'intervista e come vedete ad esempio aggiustare l'audio. Tra l'altro questa funzione ci permette operazioni di modifica come lo spostamento e il taglio delle clip raggruppate oppure il minute o il solo di alcune aree. come stiamo vedendo l'automazione di piste che sono state raggruppate assieme. Ora con Elastic Wave possiamo ad esempio su un parlato strecciarlo mantenendo il pitch. Nella pagina Deliver c'è ora l'esportazione diretta per TikTok e quindi possiamo anche inserire l'upload diretto. Bisognerà fare il login prima al servizio e poi cliccare Upload directly to TikTok e durante l'esportazione verrà come facciamo ora per YouTube inserito direttamente in TikTok. C'è anche la possibilità di esportare in GIF, PNG, JPEG e anche in GIF animate. È possibile esportare e importare timeline con il sistema OTO e possiamo creare backup molto più velocemente inserendo direttamente nei setting. Seguono poi tutta una serie di migliorie sul monitoraggio da remoto e la collaborazione con il cloud. Bene come avete visto io sono sempre sul pezzo quindi per cortesia lasciate un like e se non siete iscritti al mio canale e vi interessa iscrivetevi. E se cliccate sulla campanella sarete avvisati in tempo reale quando posto un nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!